vai salve abbiamo trovato una persona che a tutti i costi voleva farsi intervistare se no ma in realtà veramente noi dovevamo mandarlo via perché sta qua ecco come ti chiami? Roberto e che ci fai qua? e sono venuto per sentire il video sono venuto con te è una S e la Z è ancora migliore ma sei bolognese, emiliano, ferrarese, vaticotto, descitto di Treviso di Treviso, di mie origini non mi guarda come per dire che è per fortuna che te ne stai andato esatto, quindi sei venuto a vedere Matteo Bibianchi, che caldo sì, molto stava bene dai, altre due cose, prime impressioni poca gente durante la settimana è presto, è lunedì, martedì e domani la gente lavora però la gente arriva dopo perché si balla tutte le sere, tutte le sere fino alle 2 di notte pensavo si ballasse solo venerdì, sabato e domenica vedi quante cose, non so il nostro amico e voi potete dare sfogo alla vostra gambetta salterina e venire a ballare tutte le sere fino alle 2 il venerdì fino alle 4 e il sabato vi teniamo a fare le pulizie dopo al massimo il parcheggio è disponibile per ballare no, ecco, pensavo per ballare ballare anche il parcheggio, no, perché andare nel parcheggio si può stare qua? quando dopo può chiudere? perché andare in parcheggio quando si può andare dietro al banco del bar? eh lui è Antonio del Beach Village buonasera a tutti ma